Situazione paradossale all'isola ecologica di Ascoli Piceno, l'esperienza in studio di Bernardino Comandini. Un cordiale saluto, iniziamo oggi il nostro telegiornale con un amico, un collega Bernardino Comandini. Mi collega un parolone. Va bene, siamo un team, un amico, Bernardino, ciao, grazie per essere qui Bernardino. Allora, paradosso, è successo proprio a te, guarda caso. Una cosa diciamo voluta, ho voluto fare un esperimento. Esatto, perché comunque ce ne stiamo occupando con i servizi che poi vedete all'interno del nostro telegiornale. Isola ecologica di Ascoli Piceno. Bernardino, nel suo furgone ha caricato tutto materiale che doveva essere smaltito all'isola ecologica di Ascoli Piceno, ma? Due giorni fa sono andato con il mio furgone insieme a un amico, dico voglio verificare le voci che mi sono arrivate. Prendo un pezzo di frigorifero, una carina di una moto e una borsa dove c'erano foteline di sedili, dove c'erano tutte cose che si potevano smaltire in discarica. Non c'erano olio sausto, non c'erano batterie, quindi non c'erano materiale pericoloso. Dico voglio verificare da solo, parto, vado lì e come arrivo c'è una signora, già come mi ha visto molto indispettita. Non so perché, forse non ero simpatico, però molto indispettita. Le ho chiesto devo scaricare del materiale. Le mi dice mi fai vedere cosa c'hai? Io apro il furgone e lei subito mi dice questa cosa non si può scaricare. E io chiedo il perché, dico come mai non si può scaricare? Questo è un pezzo di frigorifero, io per non portargli il frigorifero intero, perché era grande, capisco che poteva essere ingombrante, dico e ne porto un pezzo per volta. Mi ha detto no, questo è schiuma espansa, è vetro resina, non si può scaricare. Ma il frigorifero è fatto di schiuma espansa, di quel materiale lì. Io ho portato uno sportello di un frigorifero. Ecco, oltretutto Bernardino, le immagini che vi stiamo proponendo fanno proprio parte del materiale che tu avevi all'interno del furgone che avresti dovuto e potuto scaricare all'isola ecologica di Ascoli Piceno. E invece mi ha detto no, questa cosa non si può scaricare, dici devi portare via tutto. Dico, beh ok, adesso io dove la porto, non ti posso fare niente e qui non lo puoi scaricare. E io ho detto va bene, la porto via. Ora, un qualunque cittadino, Sozzone, come dico sempre nei servizi miei che ci sta bene questa prova di Sozzone, avrebbe buttato la prima piazzola, perché così fanno. Adesso mi pongo, come l'altro giorno, il quesito. Allora, tutte le discariche che io e Gino abbiamo trovato lungo l'asse attrezzato, lungo la zona industriale, vuoi che non è dovuto anche al fatto che vengono rifiutati, no? Perché queste persone che vanno lì a portare sta roba si sente respinta e viene mandata via. Perché adesso questo dubbio mi viene. Certo, perché magari di portare a casa un pezzo di un frigorifero, un frigorifero intero, magari mi viene da difficile. Se io ce l'ho in macchina sto frigorifero caricato e lo vado a scaricare lì, e poi mi viene detto non lo puoi lasciare, io non lo riporto a casa sto frigorifero. Che devo fare? Io me lo porto in giro tutti i giorni con la macchina? No. Il primo posto che trovo me ne devo liberare, perché non ci sono altri posti in Ascoli dove tu puoi andare a portare sto frigorifero, a portare sto materassi. L'isola ecologica è preposta proprio alla raccolta di questi materiali. Sì, parliamo tanto di pulizia, parliamo tanto di ecologia, parliamo tanto di raccolta differenziata. Abbiamo messo davanti a casa 25 secchi, perché ogni secchio ci va la buccia di banana, una buccia di mela, lo scondrino, perché dove abbiamo e poi dopo veniamo lì dove noi andiamo con un furgone, con una macchina. Molta gente affitta il furgone, perché avendoci la panda non ci può caricare il materasso, affitta il furgone, quindi spende soldi, prende il furgone, poi va lì e si sente di chiudarlo. C'è anche un servizio preposto dal comune con dei giorni stabiliti dove si... Si, 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 telefoni e ti vengono a prendere roba, ma passa un mese. Può prenotare, ecco. Non è che, diciamo, in due giorni di tempo, tre giorni ti vengono a prendere il materasso, se io devo smaltire sto materasso, sto frigorifero, e c'è un appartamento piccolino, non ci entro manco io, e devo aspettare un mese che mi porti via sto frigorifero, non è possibile. Diventa difficile, certo. Si, che poi non è un mese, dipende sempre di più, perché ti dicono, ma dopo molte volte manco ti rispondono, perché ho provato anche a telefonare, ma manco ti rispondono, quindi molta gente dice, ma io che devo fare? A chi mi devo rivolgere? Mi hanno chiamato l'altro giorno dicendo, io ho trovato tutti i frigorifero a casa e un condizionatore, ho chiamato 25 volte e nessuno mi risponde, che devo fare io? E io che gli devo rispondere? Hanno visto i nostri servizi dicendo, ma che devo fare? Ecco, allora facciamo così Bernardino, magari attraverso la nostra rete, se qualcuno ci vuole rispondere, magari ci vuol dire come bisogna fare per lo smaltimento di questo materiale ingombrante, magari fatecelo sapere, noi ascoltiamo tutti. Potremmo aggiungere una nota di colore, visto che ci siamo. Io ho visto in questa persona, ho visto in questa area importante di Ascoli, che parliamo di un'isola ecologica, quindi parliamo di un servizio pubblico importante questo. Io ho visto in questa persona una sorta di, come chiamarla, di incompetenza. Ecco, questa persona per me è incompetente, il suo ruolo non è quello, secondo me dovrebbe stare dietro una scrivania o fare tutt'altro. Lì ci vuole una persona competente che capisca il materiale che gli viene portato, certo che se li portano all'esausto non lo posso lasciare, ci sono dei bidoni appositi, ma se io vado lì con il materiale, come avete visto, che va destinato alla discarica, questa persona deve capire che quella roba va in discarica e quindi mi fa smaltire. Quindi dico anche al Comune, a chi ce l'ha messa in quel posto, che magari bisognerebbe un attimino rivedere la situazione. Allora noi siamo qui, quindi se qualcuno avesse qualche cosa da dire, da aggiungere o da rimproverare magari, noi ascoltiamo tutti. Allora, altro argomento di cui ti sei occupato, la fontana del Jolly. Qualche giorno fa è uscito un articolo proprio su un quotidiano locale dove sembravano imminenti i lavori di sistemazione di questo bigliettino da visita della città di Ascoli Piceno. E invece? Una brutta nota di colore per quanto riguarda Ascoli Piceno, ma io leggendo l'articolo, perché adesso tutte le mattine mi vada spettacolare al giornale quello che si dice di Ascoli, lo stesso articolo io l'avevo già letto tempi addietro, quindi è stato un copio in colla. non vorrei che questo articolo, questo pagliativo è stato messo lì tanto per raccontentare qualcuno, tanto per farci credere che i lavori verranno fatti. Poi leggevo 150 mila euro, leggevo sull'articolo pochi soldi, pochi soldi, 150 mila euro ragazzi non sono pochi soldi, trasformandoli a milioni, perché io sono abituato a fare così, sono le vecchie 300 milioni, quindi per sistemare una fontanella di 20 metri per 10 metri, 300 milioni mi sembrano un'enormità di soldi, perché poi lì diciamola com'è, io e Gino siamo andati più e più volte a fare i servizi, non c'è tutto questo lavorone da fare, è solo da dare una bella pulita, magari signori che vanno con il giubbino giallo al centro di Ascoli a fare gli angeli della pulizia, perché adesso li chiamano angeli della pulizia, non è una polemica ma è un dato di fatto, potrebbero andare lì. Intanto cominciamo a pulire, andiamo dentro Ascoli con la giupolitrice in 5, in 6, tutti pensionati, bravissima gente, per carità, non ne voglio togliere il merito, allora andiamo a giochi, cominciamo a pulire intanto, togliamo le scritte, delle zecche, scusatemi ma se lo dico, ma questa cosa mi fa enormemente arrabbiare, che prendono le bombolette e vanno a scarabocchiare i muri, intanto cominciamo a fare quello, poi dopo il travertino è secolare, non bisogna cambiarlo, bisogna solo pulirlo, che non è stato mai fatto e già una metà del lavoro l'abbiamo fatta, poi sistemare la fontanella, 150 mila euro, signori ripate un attimo i conti perché secondo me non ci siamo, io ho detto anche una volta scorsa, abbiamo purtroppo stiamo in un momento di crisi, quindi tutti quanti dobbiamo risparmiare e rimettere i rimi in barca, ma noi abbiamo in comune gente competente assunta al libro paga per fare questa cosa, quindi perché noi dobbiamo prendere un'impresa esterna? Abbiamo i dipendenti del comune pagati, che magari non sanno cosa fare, chiusa parentesi e apro parentesi, li mandiamo a sistemare la fontana del Jolly, quindi costerebbe un'eresia fare questa cosa e magari l'avremmo fatto già due anni fa e quest'estate quei pochi turisti che sono venuti, pochi, non diciamo eh, pochi sono venuti, non vedevano quello scempio perché purtroppo, e dico purtroppo, scendono proprio davanti alla fontana del Jolly perché l'unica fermata dei bus è quella, quindi sta gente che torna a casa, che ricordo si porta? Perché l'ultima cosa che vede di Ascoli dopo la bellissima piazza del popolo, l'ultima cosa che vedono è quella che gli rimane impressa nella testa, che cos'è? la schifessa dalla fontana del Jolly, quindi che ricordo mi porto io a Milano, a Bologna, a Torino quando vedo uno scempio del genere, no? Quindi volevo dire quattro, cinque servizi che facciamo, sono anni, ormai penso che è il terzo anno che facciamo sta cosa, è il terzo anno che se andiamo a dire lo faremo, ma lo dobbiamo fare, pochi, gli altri e più fatti, no? Allora Bernardino, questo vuole essere una sorta di avviso per gli automobilisti, a Monticelli sul semaforo verrà messo questo famoso T-Rex che è una sorta di autovelox mi è sembrato di capire. Un autovelox che becca il poveraccio di turno che magari riesce cerca di attraversare con l'arancione che poi dopo, basso il codice della strada, non è molto chiaro e non tutti lo sanno, che una mattina ha fatto tardi, porta i bambini a scuola, adesso sono ricominciate le scuole, quindi tutti quanti corrono affaccendati perché per fortuna qualcuno ancora lavora, quindi lascia il bimbo dalla mamma, lascia il bimbo a scuola, all'asilo e il T-Rex che vogliono mettere questi signori al semaforo di Monticelli, non è altro che Bancomat, io lo voglio chiamare un Bancomat perché loro devono solo incassare e come lo devo fare perché sta poco più avanti, non è repressione per quello che cammina o per l'indisciplinato, quello è solo un modo per portare soldi in cassa, non è repressione, la repressione è mettere, come dico sempre io, la pattuglia sul posto, è mettere i carabinieri sul posto, mettere più agendi sul territorio per dare una sorta di sicurezza al cittadino, aiutare qualche anziano magari ad attraversare la strada, aiutiamo magari invece di farli investire e dare più colore, dare più sicurezza alla gente che paga le tasse, invece quello no, non è dare sicurezza, quello è togliere i soldi dalle tasche, allora io dico sempre i cittadini, ascoltate quello che vi dico, non vi fate rubare i soldi perché quello è un modo per rubarvi i soldi illegali, quindi andate piano, state attenti e occhio alla penna perché questi signori si stanno organizzando per farvi la trappola, perché quella è una trappola.